buongiorno benvenuti in questo nuovissimo vlog allora è il primissimo video che io giro con questo nuovo colore non penso che sarà il primo che vedete perché penso che vi farò un video proprio in cui vi introduco questi nuovi capelli perché è un bel cambiamento se avete visto almeno l'ultimo video cioè se non l'ultimo il penultimo comunque la rossa sapete che appunto prima ero con i capelli rossi mentre adesso sono biondo platino allora in realtà qua sono abbastanza giallini e qua sono proprio belli platino ghiaccio stupendo infatti devo fare ancora un trattamento antigiallo qua sopra e dato che ho fatto la decolorazione da pochissimi giorni due giorni fa aspetto un po di giorni per fare questo trattamento per non rovinarli eccessivamente e infatti aspetto di fare il video presentazione di questi nuovi capelli fin quando non li avrò comunque almeno non dico perfetti ma almeno sistemati non di due colori diversi e la cosa assurda se voi avete visto il video di presentazione se mai avrò fatto un video di presentazione di questi capelli lì appunto avrete visto che li ho fatti in casa infatti sono passata dal rosso al rosso ramato al biondo in casa e più precisamente è stata mia sorella che mi ha applicato la decolorazione a parte la parte alta a parte la parte tralasciando questa parte che è appunto gialla non so se si può notare ma i miei capelli sono perfetti nel senso sono completamente omogenei non ci sono chiazze più scure chiazze più chiare non ci sono rimasugli di di ramato sono perfetti come se li avessi fatti dalla parrucchiera invece li ho fatti a casa con una sola decolorazione e io sono contentissima perché penso sia a merito dei prodotti che ho usato per decolorarli che sono dei prodotti comunque professionali e mi hanno fatto sì che appunto sono riuscita ad uscire normale comunque praticamente questo non è un video sui miei capelli comunque non solo sui miei capelli inoltre scusatemi anche qua però purtroppo ho un herpes qua sul sul labbro perché a me esce sempre fuori l'herpes quando sono molto stressata quando le difese immunitarie basse tutto quanto io purtroppo soffro tanto di herpes e mi viene spesso e dato che in questi giorni ho avuto dei giorni abbastanza impegnative abbastanza intensi mi sono tanto stressata praticamente ieri ho avuto una visita con la mia dottoressa con la mia dottoressa dietologa e endocrinologa infatti devo fare anche un video apposito sulla dieta devo fare tanti video sulla dieta ma un video di aggiornamento ci sta infatti spero di farlo anche questo pomeriggio adesso vedo e praticamente lì vi devo aggiornare appunto sul discorso dieta perché ieri ho avuto questa visita ed è andata benissimo ragazzi io dall'ultima visita circa tre settimane fa ho perso ben 7 chili e sono molto contenta emozionata e anche fiera di annunciare il fatto che mi mancano solo 5 chili al mio peso ideale al mio peso forma no ideale no perché il mio peso ideale è uno mentre al mio peso forma mancano solo 5 chili e io sono contentissima perché ho perso 25 chili e con questi ultimi 5 chili avrò un totale di 30 chili persi da gennaio e sono veramente molto fiera e molto felice di me stessa sono emozionatissima infatti mi sono fatta anche un piccolo regalino ho appena acceso la videocamera perché sono finalmente riuscita ad acquistare sul sito di clio ho acquistato il nuovissimo prodotto il balsamo labbra e ho preso anche il correttore sapete che io di clio ho già due correttori lo 02 e lo 03 se non sbaglio mentre questa volta ho acquistato lo 01 perché dalle recensioni che ho visto mi sembrava sempre chiarissimo però ho visto che quelli che ho io non sono così tanto chiari soprattutto lo 0 no qual era lo 02 o lo 03 comunque uno dei due è molto pescato e lo uso più per correggere la parte violacea delle sopra si delle sopracciglia delle occhiaie mentre l'altro è comunque un pensiero 02 è comunque chiaro ma non chiarissimo quindi spero che lo 01 sia più chiaro allora questo è il mio ordine scusatemi se non vado molto a sinistra ma c'è l'indirizzo di casa e evitare di farlo vedere come vedete ho preso appunto il correttore e il balsamo labbra che è uscito oggi e io sono curiosissimissimissima di provarlo io seguo clio da tantissimi tantissimi anni e so che lei ha una passione molto intensa molto particolare per i balsami labbra per il burro di cacao tutti i prodotti che vanno a curare le labbra quindi io penso che questo possa essere un prodotto molto molto valido per quanto lei è ossessionata da questo genere di prodotti e per questo l'ho voluto comprare nonostante sia un balsamo labbra che costa praticamente 16 euro costa parecchio per essere un balsamo labbra però io penso che può essere un buon prodotto perché lei veramente è un prodotto che utilizza tanto e ne ha utilizzati tanti nella sua vita quindi se lo ha fatto lei quindi se lo ha creato lei e lo ha fatto uscire lei penso che possa essere un ottimo prodotto e che non mi deluderà diciamo non mi farà pentire dei soldi spesi quindi speriamo speriamo bene adesso non so quando mi arriverà 4-5 giorni lavorativi oggi è martedì no oggi è mercoledì quindi giovedì venerdì lunedì martedì penso mi arriverà martedì quindi settimana prossima vedremo al massimo vi farò una recensione sono solo due prodotti quindi vediamo che recensione farvi e nulla altra notiziona che ancora non vi ho dato praticamente oggi ho fatto la seconda dose del vaccino quindi sì sono ufficialmente totalmente vaccinata quindi spero di non prendere il covid perché appunto ho fatto entrambe le dosi del vaccino ho fatto io il vaccino Pfizer quindi appunto sono due richiami il primo e il secondo mentre adesso del Johnson & Johnson è soltanto uno quindi chi lo farà ovviamente non dovrà farlo due volte come l'ho fatto io e sono molto contenta solo che ovviamente essendo me ed essendo io ovviamente non poteva non esserci un inconveniente quindi adesso vi racconto cosa è successo da questa angolazione strana perché mi fa malissimo il braccio va bene tengo io la videocamera perché altrimenti è un disastro non riesco a trovare una posizione dove metterla usatemi l'inquadratura un po' così praticamente vi racconto cos'è successo praticamente io ho fatto il richiamo del vaccino quindi ho fatto la seconda dose e... ma io sono fuoco chi lo sa praticamente mi sono presentata all'appuntamento lì al lab vaccinare vaccinale io nella mia città in ospedale quindi sono andata appunto in ospedale c'ero già stata quindi sapevo già dove andare tutto quanto sono arrivata lì e ho visto che a differenza della prima dose c'erano tantissime tantissime persone fuori che aspettavano e dicevo strano quindi mi metto in fila mi vado a registrare quindi dico ah sono l'Iuba devo fare la seconda dose del vaccino già lì quando io ho detto che dovevo fare la seconda dose e comunque sono una ragazza giovane tipo tutti mi guardavano così della serie ma perché ti stai facendo il vaccino quindi prendo il mio numero e aspetto 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 dopo un po' vengo a sapere praticamente tutti quanti li erano un po' spazientiti il problema è praticamente che non avevano le dosi del vaccino quindi il Pfizer in quel momento non lo avevano perché praticamente per scongelare una fiala bisognano esserci se non mi sbaglio 10 persone che possano usufruire di quella fiala perché altrimenti se è scongelato da troppo tempo va male si rovina e non si può più iniettare alle persone quindi per evitare di sprecare dosi del vaccino praticamente abbiamo dovuto aspettare un numero adeguato di persone da poter vaccinare scusatemi sono veramente fusa sono anche gli effetti del vaccino praticamente quindi l'unico problema è che lì c'erano tante persone che facevano tanti tipi di vaccini quindi c'era chi faceva Moderna, chi faceva Pfizer e chi faceva AstraZeneca quindi abbiamo dovuto aspettare tante persone perché per il Pfizer non ce n'erano tantissime quindi abbiamo dovuto aspettare che arrivassero gli altri da vaccinare quindi dopo un po' arrivano le dosi entrano tutti a vaccinarsi finalmente tocca pure a me sono rimasta io sotto il sole un'ora e mezza più o meno fate quanto erano le 11 e mezza qui in Sicilia giornata molto soleggiata io stavo tipo per svenire non avevo mangiato mi ero svegliata tardissimo quindi vabbè un casino entro là dentro mi faccio il vaccino e mi metto ad aspettare nella saletta se avete già fatto il vaccino però per chi non l'avesse fatto comunque dopo che vi fanno il vaccino vi tengono in osservazione per una ventina a trentina di minuti per vedere se avete delle reazioni particolari e se non avete entro appunto quel tempo delle reazioni particolari o comunque preoccupanti vi rilasciano il foglietto del richiamo o il foglietto in cui appunto siete stati vaccinati per la seconda volta e andate a casa praticamente mi lasciano il foglietto in cui io sono stata vaccinata e praticamente nel primo foglietto mi hanno attaccato due bollini due codici QR mentre questa volta mi hanno dato un altro foglietto con un solo bollino io mi metto in macchina guardo il foglietto della vaccinazione dove c'è scritto avvenuto vaccinamento bla 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 queste cose qui e noto che nel mio bollino QR c'è scritto richiamo il 1505 2021 ero tipo what? come scusa? come richiamo? devo farlo per la terza volta? e io dico no non è possibile non è possibile non è possibile buh forse è una cosa normale forse è una roba del QR non si tratta del vaccino ho iniziato a pensarle veramente tutte per dire vabbè è una cosa normale magari sono io che mi sto facendo dei castelli sono solo preoccupata di quelli là quindi arrivo a casa arrivo a casa vado da mio fratello che lui aveva già fatto i due vaccini e gli dico Peppe ma scusa ma da te c'è scritto così e lui mi fa no da me c'è il codice QR ma è tutto bianco non ci sono scritte non c'è nulla e io tipo oh beh oh beh e quindi io e mia madre ci siamo subito preoccupate per il passaporto vaccinale quindi se non risulta che appunto io sono vaccinata non mi posso fare il passaporto vaccinale non posso avere questo passaporto quindi corriamo subito nuovamente al lab delle vaccinazioni nel frattempo si erano fatte più o meno l'una e mezza arriviamo lì ovviamente non c'era nessuno perché non ero orario di vaccini entro grazie a Dio c'erano due persone due infermieri e entro dentro e preoccupatissima dico scusatemi ma io ho fatto il vaccino oggi però qua c'è scritto che ho richiamo e lui fa tipo sì richiamo e faccio no ma io ho fatto la seconda dose e lui mi fa aspetta quindi prende il foglietto va da un'altra stanza dal suo collega e spiega io sentivo lì che c'era qualcosa che non andava lui ritorna e mi dice sì praticamente questo tipo ritorna da me e mi dice sì effettivamente c'è stato un problema perché non dovrebbe esserci scritto che tu hai da fare un richiamo però non ti preoccupare soprattutto per il passaporto vaccinale perché poi sarà il tuo medico di base a dover inserire i dati per farti avere questo passaporto vaccinale in cui ci sarà scritto che comunque tu ti sei vaccinata e non c'è niente da fare comunque non ti preoccupare perché non c'è alcun problema perché l'importante è avere entrambi i foglietti quello della prima dose e quello della seconda perché quelli là attestano che tu comunque ti sei vaccinata quindi stai tranquilla anche se c'è scritta questa cosina stai tranquilla di quelli là quindi io adesso sono tranquilla perché lo mi ha detto così però in fondo in fondo ho paura l'unica mia paura adesso è che magari nel sistema io risulto ancora non vaccinata quindi spero che sia tutto a posto che non sia così che sia solo una mia fissa e va bene questa è Eleni che mi sta chiamando amore baby ciao baby allora aggiornamenti sono le 23 e io sono morta inoltre ho introdotto so che questa è una cosa che probabilmente fa schifo quindi al massimo se siete persone schifettose schippate mamma mia che male ho avuto una fitta al petto comunque prima cosa mi è caduta la crosticina dell'herpes prima cosa schifosa seconda cosa schifosa oggi ho reintrodotto i latticini nella dieta penso di avervelo detto stamattina ho reintrodotto i latticini e adesso ho un mal di pancia atroce veramente veramente atroce c'è una zanzara nella mia stanza no è la dieta che stavo facendo dato che aveva diciamo poche fibre assolutamente non latticini diciamo che dal punto di vista del bagno era un po' così cioè nel senso diciamo che io e il bagno in questi mesi siamo stati due cose distanti ecco non siamo stati molto amici mettiamola così chi vuole capire capisce solo che adesso che ho introdotto i latticini c'è stamattina ho mangiato c'è stamattina ho bevuto il caffè e latte questo pomeriggio ho mangiato lo yogurt intero e non li mangiavo da quattro mesi ho un movimento allo stomaco che non ve lo sto neanche a dire infatti sono qua che la pancia mi brontola mi fa male inoltre come vedete sono rossa perché purtroppo mi è salita un pochino di febbre non è molto alta ma un po' mi è salita infatti io sono qui nel mio letto con la tachipirina poi ho questa pistola vabbè per misurarmi la febbre perché non so dove sono gli altri termometri e nulla infatti adesso ero a letto pensavo di mettermi a nanna però sono veramente dolorante inoltre non so se potete notare ma i miei capelli rispetto a questa mattina sì sono differenti perché ho provato a fare ad utilizzare lo shampoo come tonalizzante lo shampoo brugolo di l'oreal però come vedete qua ha preso benissimo perché i miei capelli sono bianchi nella parte in cui devo più gialli leggermente li ha tonalizzati però rimangono comunque gialli quindi nei prossimi giorni andrò in un negozio per parrucchieri e comprerò un tonalizzante serio al posto dello shampoo che diciamo sì tonalizza i capelli ma diciamo fino a un certo punto quindi non so se avete sentito la pancia ho fatto un rumore assurdo comunque andrò dal parrucchiero a comprare un tonalizzante per vedere com'è la situazione comunque io adesso stacco qua il vlog vediamo se domani lo continuo perché se sarò ancora capace di intendere di volere sicuramente domani lo continuerò inoltre cioè qui non si vede la parte gialla in questo frame la parte gialla dei capelli e devo dire che con i capelli bianchi mi piaccio tanto sono veramente veramente molto molto carini inoltre secondo me con i capelli bianchi e la mia ricrescita che è un biondo cenere secondo me ci può stare anche molto bene mentre il giallo con la ricrescita biondo cenere secondo me non è una coppiata particolarmente carina buongiorno buongiorno allora è passato ben un giorno dall'ultima clip l'ultima clip l'ho registrata l'altro ieri e purtroppo ieri non sono riuscita a riprendere nulla perché stavo malissimo avevo un po' di febbre e non mi sentivo per nulla bene cioè stavo veramente male 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 e quindi non sono riuscita a riprendere inoltre questi due giorni sono stata veramente vi giuro chiusa a pensare i miei capelli perché se avete visto le ultime clip sapevate che appunto io li avevo appunto decolorati e li avevo appunto giallini e li avevo tonalizzati col shampoo antigiallo successivamente ovvero ieri sono andata in un negozio per parrucchieri e sono andata a comprare dei tonalizzanti e proprio quelli professionali e ne ho preso uno che finalmente gli sono arrivati quelli della Fanola che sono un brand ottimo un brand molto molto famoso soprattutto in America e anche in Inghilterra che praticamente è un brand che fa questi shampoo antigiallo super super potenti e hanno fatto questi tonalizzanti ne avevano di diversi tipi e io ne ho preso uno più o meno ghiaccio silver per poter tonalizzare i capelli lo avevo fatto e i capelli effettivamente mi erano riusciti molto meglio rispetto come li avevo nell'ultima clip cioè non c'era più quello stacco giallo bianco però avevo la ricrescita molto più fredda l'unica cosa è che le lunghezze erano completamente bianche bianche però non era un cattivo risultato da vedere solo che su di me sinceramente non lo vedevo bene perché secondo me mi smorsava veramente troppo soprattutto da struccata anche perché io non vado sempre truccata quindi da struccata non mi piacevo particolarmente allora ho deciso di prendere un altro tonalizzante invece questa volta l'ho preso biondo ne ho presi due ho preso un tonalizzante numero 9 e un tonalizzante numero 10 numero 9 è un biondo platino leggermente più scuro mentre il numero 10 è un platino molto chiaro però comunque naturali più naturali di un capello bianco di un capello argento quindi ne ho presi entrambi e ho detto vabbè faccio il 10 se vedo che non attacca sui miei capelli bianchi se vedo che è troppo troppo bianco faccio anche il 9 successivamente quindi adesso ho fatto il tonalizzante 10 li ho visti da bagnati e secondo me sono molto carini perché sono appunto un colore biondo platino svedese secondo me sono molto molto belli e ovviamente anche più naturali rispetto a quello che avevo prima e sono stata anche brava magari adesso vi giro un video in cui vi spiego bene tutti i vari passaggi perché sono stati veramente dei giorni infiniti tra la decolorazione lo shampoo anti giallo questi tonalizzanti inoltre io avevo paura che questi tonalizzanti mi rovinassero i capelli invece non so perché sono dei tonalizzanti particolari speciali o di nuova generazione non ne ho idea però noto che da quando ho fatto questi due tonalizzanti i miei capelli sono più forti non sono più morbidi però li sento più forti più resistenti rispetto a quando ho fatto la decolorazione cioè li sento più più forti più resistenti e quindi sono sono contenta perché ovviamente non ho notato che me li hanno rovinati però me li hanno tra virgolette migliorati non so se è stato merito del tonalizzante o se è stato merito dell'ossigeno perché entrambi comunque sono dei prodotti diciamo non troppo danneggianti per i capelli non danneggianti quanto una decolorazione la decolorazione proprio li brucia di base e quindi sono veramente molto contenta comunque io adesso diciamo che questo vlog lo posso concludere qua perché comunque era il vlog del vaccino vi volevo dire come andavano questi giorni adesso non so se concludere qua questo vlog perché questo pomeriggio arrivano i miei nipotini qua e ci vediamo dei film di harry potter mangiamo anche una pizza io vabbè mangerò solo il sopra della pizza anche se in realtà ho introdotto i carboidrati complessi però la pizza purtroppo allora se hanno la pizza integrale in teoria potrei mangiarla se non hanno quella con l'impasto integrale non posso mangiarla quindi vediamo vediamo che pizza posso prendere e niente quindi io spero che questo video vi sia piaciuto che questo vlog vi sia piaciuto mi scuso tanto se in questo periodo il mio canale è stato un po' latitante ci sono stati pochi video però sono stati dei giorni veramente complicati tra il vaccino e i miei impegni vari quindi spero comunque che rimaniate connessi nel mio canale comunque non vi preoccupate perché presto usciranno tanti tanti nuovi video io spero che questo vi sia piaciuto vi mando un grande grande bacio noi ci vediamo al prossimo ciao ciao ciao